Mamma! Ma che? Ma che? Ma che? Non si vede niente! Babbo la sessare non voglio essere fotografato non sono passato! Vande! Paaa! No! Dai! Ah! Ora fa! Tu come stai? Non va ne fotografia? Filme? Ah! Oicino va beh! Oicino! Associazione Bessarvieri Sezione di Paceco Piano Battaglia Ahia! Ciao! Ma basta! Buono! Si! Basta! 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 Italia 1! Oh guarda! Italia 1! Giorgio! Po questo! Poi! Come! Come!